Ciao, nome, cognome e quanti anni anni? Mi chiamo Stefano Fricolorpe e ho 24 anni. Perché ti piace venire a sostare? Perché stiamo insieme, guardiamo la tv, facciamo tante cose, mangiamo la pizza, facciamo la notte, ci facciamo da mangiare da noi da soli e basta. Cosa hai imparato a sostare? Ho imparato a fare una mangiare anche se a casa non lo faccio. E cosa ti manca di più di sostare quando torni a casa? Mi manca Francesco e poi non so altro.